La storia parte, non so se sono tre o quattro anni fa, che sono venuti Marcello e Francesco. Sono venuti e mi hanno detto se ne abbiamo bisogno di qualche informazione particolare tu te la puoi dare, non c'è nessun problema. E poi l'anno dopo mi hanno chiesto di andare proprio là in Albania. Questa qua vedete? Questa qua con il bianco, vedi che c'è il naso un po'... Questa qua sono da carne proprio, vanno dal terremoto scuro al grigio, al grigio chiaro. Io parlo da veterinario, io sono veterinario e poi dopo, io sono anche agricoltore per gli variificanti, faccio la legna, faccio tutta una serie di cose perché è proprio una cosa che mi piace. Dove si attacca la coscia alla panza? Questa coscia mi è buona? Siamo venuti in Italia, per vedere un po' come funziona qua. Ma quando faccio, non c'è tradito, non c'è stata riuscire, non c'è stata riuscire, non c'è stata riuscire, ma non c'è stata riuscire. Alla prima di tutto ciò non vedo, non c'è stata riuscire. E ora abbiamo un esperienzo di generale. Per farlo i fermenti li metto tutti nel latte, 10 giorni dopo lo buchi, li sviluppa con la muffa e gli cambia il sapore, però io lo faccio in un modo particolare che lo faccio a pasta quasi dura. Tanto chi vuole sentire... E la ricotta la riesce a fare senza problemi? A quanti gradi arriva quella macchina? Sono lì, anche a 100. Se io ho imparato a piardere con l'esperienza, con le mie capacità, a ottenere certi risultati, mi fa piacere che anche gli altri possano trarre su un momento da quello che ho imparato io. Sì, così, non lo vodere, che mangiare, così si preparano i migliori parto, uno riesce a controllare meglio se la mamella va bene, se ha qualche problema. Aves, ma shum'le, Ana e bai, si dhe me fanno, perponimi t'i chum'è. Me arrit, me bai, shum'le, i shmëri, i djath, nasce normali. Je veti me djath, ne bai, se si bai, me ne. Tre, che hanno fatto essere emigranti a Grecia in Italia, e hanno fatto un'emigrante a fare un'emigrante a fare un'emigrante. E hanno fatto un'emigrante a fare 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 un'emigrante. Dove agiscono e lavorano questi allevatori, è molto possibile da dove l'ho vinto io. Tante cose che ho insegnato io, gli sono servite, quindi dopo ogni anno, se crea un rapporto, accordo di individu, perché c'è la gente che è già il terzo anno che seguo. Faccio parte di una famiglia che avevano cinque fratelli, quindi nasci con lo spirito di condivisione, lo senta di affari tuoi. A presto, a presto. E tema maravillante Grazie a tutti. Grazie a tutti.